Voglia di fare musica Grazie a tutti Siamo tutti in solitanza fatti di provare a presentare, se lo sei guardato qualcosa, doveva essere forte. Il minimo, il minimo, il minimo. No, ecco, dopo solo le altre parole, la città. Ecco, se ne vediamo, non so se ne vediamo, non so se ne vediamo. Non so se ne vediamo, non so se ne vediamo. Ma ora, ora! Ma ora, ora, anche se ne vediamo. Ma ora, è un'altra cosa? Ma anche qua, perché è una cosa? Ma anche qua, perché è un po' che non è già scinta, allora, che cosa le faccio? No, non so se ne chiediamo, stiamo, perché è scattato? No, 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 no. Ma cosa è, sì, sono scattato, no? Sì, è giusto, no! Allora, per esempio, non so se ne vediamo, e se ne vediamo la canzone, la canzone, l'abbiamo usato per il piano, e una canzone, una canzone, un po' di risorse di risorse, Grazie. 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 Grazie.